Un normale controllo culminato con un arresto e con un finanziario uscito malconcio dalla colluttazione con un rumeno. È accaduto all'Aquila nella notte tra sabato e domenica, quando in manette è finito un uomo di nazionalità rumena, finito in carcere al termine di un inseguimento. I finanzieri, sabato notte nei pressi di Via Leonardo da Vinci, dove si trova anche il palazzo della regione, durante un normale controllo hanno fermato due persone ritenute sospette, evidentemente. Una terza persona che si era avvicinata e alla quale i militari hanno chiesto i documenti per poterlo identificare, a seguito della richiesta si è data precipitosamente alla fuga. I finanzieri lo hanno inseguito e bloccato, ma ne è nata una colluttazione, durante la quale uno dei finanziari coinvolti è rimasto anche ferito e costretto a ricorrere alle cure del pronto soccorso del capoluogo di regione. Dopo l'arresto, la casa dove vive l'uomo in città è stata perquisita dalle fiamme gialle. I finanzieri hanno rinvenuto 100 grammi circa di cocaina, nascosti in un involucro, altri 300 grammi di sostanza stupefacente utilizzata per il taglio della droga, insieme a tutto l'occorrente per il confezionamento, compreso il bilancino di precisione. Sequestrati anche 2.000 euro in contanti e un telefono cellulare, che ora è chiaramente al vaglio degli inquirenti, per risalire anche al giro di stupefacenti in cui l'uomo arrestato è coinvolto.